Ciao a tutti ragazzi del tubo, oggi siamo qui con un nuovo video su Happy Wheels, col computer di mio cugino Renato che è molto più veloce di quella schifezza che ho a casa mia infatti potrete notare la differenza che adesso c'è il sangue e la qualità è messa alta senza che il computer laghi, cioè riesce a reggere per fortuna quindi possiamo iniziare, in questo momento siamo in un livello del popolo guardate, oggi è la giornata fortunata di Alessandro Gennaro madonna che culo, madonna che pro, madonna che pro ragazzi guardate, you are so lucky I give you a second chance che culo, no, no le mine, vabbè non dovrebbe essere tanto difficile ok, va bene, va bene, ok, facciamo finta di non aver visto piuttosto spike fall, bello scegliamo il padre di Jimmy con Jimmy, bellissima ragazzi questa, un classico questo si merita un mi piace al video, questo si merita un mi piace al video al primo tentativo, naturalmente uccide Jimmy al primo colpo e poi ce la fa al primo tentativo questo si merita un bel mi piace per il video like the magic official lo fa vj come stai col course? uno, spike oh merda oh merda dai, dai, ok, ed è uno ok, backflip perchè forza backflip? possiamo fare un salto normale che culo merda merda aspetta ma lei no che cazzo sta succedendo? vabbè possiamo anche andare senza gambe ok, mi sa che il corpo ci serviva vabbè, niente corpo vabbè, ricominciamo, dai, non è ma poi scusate un secondo sbaglio o faceva scegliere un personaggio qualsiasi no, 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 sono il padre di Jimmy è Jimmy non si sa perchè ci deve essere l'esplosione ok, ed è uno questo è facile senza corpo senza testa si molto bello si può andare a giocare senza abbraccio si può? si like 70 attenzione attenzione madonna che pro ragazzi madonna che culo che ho avuto anche madonna vedete, sto back c'è un salto assurdo un 360 questo si mette un altro mi piace anche se si può se si può mettere solo un mi piace al video vabbè, lasciamo stare ok, senza abbraccio vabbè, vabbè, vabbè ok, fa niente fa niente Jimmy lecca il braccio Jimmy lecca il braccio Jimmy, ho detto lecca col fottuto abbraccio tieni, bustati la mia mano quel cazzo tieni, inchiappatela ok merda ah, abbattate madonna che culo ah vabbè, Jimmy, stai là Jimmy, stai là Jimmy, lo mi ostacolare vedete, Jimmy è in complotto contro di me ok, vabbè, dai merda me lo faccio ti si sparta no mio Dio ragazzi madonna ole una bella pioggia di sangue vabbè, cose che capitano tutti i giorni ma lasciamo stare un bel poltro ok, ci siamo che cazzo è buggato oh è buggato cazzo che è successo? ho capito, ricominciamo vediamo che non si buggi ok, ci siamo no, la vittoria è bloccata dobbiamo andare sul lock è dead è certo è certo bella morte vabbè, ragazzi, questo era solo d'allenamento che lo sappiate che cazzo che cazzo è buggato è buggato vabbè, lasciamo stare tre palle tiro due volte prendo la morte altre quattro palle no, si è buggato di nuovo nooo kidding me are you seriously? fa un gol andiamo a prendere due palle che c'ho due palle così ma che cazzo è? perché quel braccio rimane là? si è bloccato ragazzi, ma dico ma questi baltro fatti di merda vabbè, lasciamo stare ah, ecco perché c'era scritto hard for propos cos'è mlp quiz mlp cos'è? vabbè, lasciamo stare e c'erano a scassare proprio ora facciamo un po' di poco con il poco mezzo pronto? eccoci qua chi può fare aaaaaah perchè? adesso voi mi spiegate perchè delle accette dovrebbero volare perchè dovrebbero bo... alessandro spingerci che c'è? vabbè cosa mangiare? che mi importa oh nooo non ora, non ora, non ora non ora, sì o no? sì e che cosa? oh mio dio apri pochia un guarnetto largo fra i due pizzetta che ne so? pizzetta vuoi una pizzetta? siciliano no, non scherzo che cosa vuoi? guarda che schivate da pro guardalo che pro nooo aspettate vuoi un gelato? ma da mangiare per il pranzo? no, va adesso va bene un gelato ha detto un gelato e vabbè ragazzi vuoi il biscotto con il gelato dentro? uh ha detto sì bello ragazzi ho detto trumanio 1.0 ragazzi ma cos'è? mix bloc ma rimani per pranzo? sì merda c'è ragazzi ah ma rimani per pranzo? sì bellissimo sì sì ok safe ok adesso la morte e il blocco non ci sono più che culo ma che ma che ma che ma che cosa are you seriously man? are you seriously? paura va bene non è un grande fottuto io non ho visto niente no ma dai non è possibile ma guarda che pro vabbè si è rotta le gambe vabbè ma non fa niente cose di cose da niente per poco si killa con le spade vabbè sì tutte le spade su poco meno sì perché no povero poco meno non ho fatto niente ho vinto non ho fatto niente vabbè ragazzi madonna che pro che sono madonna che pro quantosiamo? siamo a 9 minuti vabbè 12 magari stacchiamo e vabbè questo è l'ultimo l'ultimo livello un bello sword throw allora io non voglio essere Justin Bieber e che cazzo vabbè eccoci qua lag momentaneo cazzo sta succedendo oh mio dio ed è una ok ed è una è fatto ed è una è fatto dai fuck you bitch headshot bitch anche se non ho fatto headshot jack norris sono jack norris nonno chuck bitch no bastardo mi hai fottuto una spada bastardo elfo di me ecco cadi soffre le pere dell'inferno per fortuna la spada hai vinto no bastardi mi voglio rifare non ci sto no 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 ragazzi tutta colpa del volume sto cazzo stai mudo vaffacula ok ci siamo allora una spada per Justin Bieber aspetta ok 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 madonna doppia doppia come una spada hellshot bitch no no fa il culo fa il culo ole no 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 ok doppietta no quello è già l'ho preso ok ragazzi sono un tabuscus adesso dobbiamo fare per per pai no ragazzi non è possibile non è possibile nemmeno nemmeno chuck north sarebbe riuscito a dare due chi lassi in questo modo io ce la faccio eh ragazzi il cosa che sono fa solo io fuck you povero povero mamma natale aiuto nonno ci ha cantato no mastarde mi vendicherò mi vendicherò mastarde che ragazzi questo è l'ultimo tentativo no aspettate no no aspettate il penultimo e questo è questo è l'ultimo no 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 oh culo ok ok ci siamo ragazzi ci siamo nonno chuck mi hai fattuto le spade ole doppia fuck you ok lol fa il culo quelle spade fa il culo prendi quelle fattute spade a lungo te le petto la sotto cazzo sto facendo mi sa che non sarà l'ultimo video ole forse abbiamo le spade giuste giuste non ci devi aggrappare la bestia bestia e ragazzi errore di sistema ma vaffanculo il caso di un problema tecnico dobbiamo ricominciare no super bersaglia fa il culo non è possibile non è possibile cose che capitano solo a me fa il culo no 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 non ci provare non ci provare adesso tutto è su justin middle dai doppia 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 nonno chuck occhio sono sempre un chuck morris io no e va bene va pezzo di merda che mi fa delle spade ole rimane quello perché rimane quel pezzo di merda vittoria alleluia 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 vincere vincere ma devo madonna che pro madonna che pro madonna che pro grazie grazie madonna che pro madonna non c'è la spada in modo da prendere già madonna che pro che ragazzi siamo 15 minuti ci siamo portati troppo oltre colpa di questo ho il livello guardato vabbè facciamo stare centana di sangue che cavolo sta succedendo vabbè facciamo stare questo è il secondo l'episodio dei più wils mettete un mi piace iscrivetevi commentate ci vediamo alla prossima bella ciao